Attenzione! Tu mi dirai di sì, tu mi dirai di sì... Ora! No! Carta che vince mi dici di sì, carta che perde mi dici di no, carta che perdi, carta che vince non dirmi di no, ma dimmi... No! Non pensare a niente e rispondi a questa domanda. Mi vuoi sposare? Sì! Dimmi di sì, il programma a cui non puoi dire di no. Grazie!